In un anno fortemente caratterizzato dalle strasciche del Covid e dal conflitto russa-Ucraina, è tempo di bilanci anche per il comune di Vallefoglia. Un 2022 complicato come rimarcato dal sindaco Ucchielli, concluso però con un bilancio in ordine e con la proiezione ad un 2023 che sarà all'insegna di diverse inaugurazioni sparse sul territorio. L'aumento del 20-30% nelle opere pubbliche e di tutti i servizi per fare un'operazione di conti in ordine è stata molto complicata, però ci siamo riusciti. Questo ci fa guardare con fiducia e con speranza anche al 2023. Siamo nel nuovo comune che inaugureremo penso entro il mese di gennaio, devono finire un po' di sistemazioni esterne, inaugureremo a gennaio il nuovo depuratore che dà un nuovo risanamento igienico-sanitario e ambientale di tutta la vallata e di tutti i comuni, di questi 50.000 abitanti. E poi a primavera inaugureremo il nuovo teatro Giovanni Santi a Bottega di Vallefoglia e poi inizieranno i lavori sia dei nuovi 60 posti del Nido a Pian del Bruscolo, sia i lavori non appena approvati i progetti di innalzamento della palla di Unigi per far giocare la squadra di Serie A femminile a Montecchio e non più a Urbino e per 1.600.000 euro, 1.500 posti, 8 metri, le mura castellane a Colbordolo, a Colbordolo sono stati fatti i lavori di metanizzazione e di depurazione per oltre 2 milioni di euro, andranno in appalto altri 5 chilometri di piste ciclopedonali. Argomento quanto mai centrale per il prossimo anno è il tema sicurezza, sul quale Ucchielli ribadisce come necessario il potenziamento della coordinazione tra i diversi organi di controllo. La sicurezza è la sicurezza sociale, è la sicurezza per il lavoro, è la sicurezza dell'avere un'abitazione, è la sicurezza anche tu cur di un potenziamento, rafforzamento della Polizia di Stato, della Polizia locale e una cooperazione fra loro per garantire tutta la sicurezza immaginabile possibile sapendo che la gente non può essere più abituata a lasciare le case aperte perché qui c'è ricchezza, tanta ricchezza e quindi c'è appetibilità anche per la malavita organizzata.